Musica Musica Noi in termini di sostenibilità siamo già presenti, intercettando questo bisogno già circa due anni fa, allora quando si è decisi di essere con il prodotto dal campo, che è un aceto di vino di filiera controllata e certificata dai contadini aderenti al sindacato della Coldiretti, che cosa ci ha comportato questo? Di accorciare una filiera in maniera veramente che più stretta non si può. Noi conosciamo il viticoltore, conosciamo che le nostre uve prodotte attraverso un contratto quinquennale arrivano alla cantina di piggiatura, dalla cantina di piggiatura viene fatto il vino che arriva nella nostra azienda. Ha bypassato circa quattro passaggi questo prodotto e abbiamo ridotto chili di CO2, fosse quanto anche il trasporto che collica i vari siti produttivi. Quindi ci siamo avviati in questo percorso, che è quello della sostenibilità che intendiamo sostenere. Il private label, o meglio come oggi si è voluto siglare MDD Partner, rappresenta una fetta importante dei nostri volumi, dove ha necessità questa, insieme alla filiera dei prodotti a brand, essere un richiamo importante ai fini del sostentamento del Made in Italy nel mondo. Se noi come imprese non ci rendiamo conto che un prodotto a basso costo significa che qualcuno ha rimesso in quei costi, e allora non ci rendiamo conto che questi costi vengono recuperati altrove, e vengono recuperati nella sostenibilità, nella qualità, nel benessere aziendale, perché poi i conflitti aziendali emergono tutti quanti, nei licenziamenti. E come ha detto il Ministro Bellanova, ci stiamo affacciando alla nuova era del caporalato, un caporalato in giacca e cravatta, che riesce con il sottocosto, con i prodotti competitivi che non lo sono perché andranno ad essere competitivi per l'azienda finale, ma un costo nei più deboli della filiera, che sono i consumatori e la salute dei consumatori e dei lavoratori che saranno costretti a nuove regole, talvolta anche antisindacali. Quindi la parola d'ordine è fare impresa, farla con una certa maturità, cercare di dimenticare il cannibalismo imprenditoriale, che poteva guidare le imprese pioneristiche, siamo maturati. Appuntamenti a breve sono quelli negli Stati Uniti che ci vedono presenti ormai da 30 anni su quei mercati, che conosciamo molto bene, è un'azienda dal 1889, cerchiamo sempre di raggiungere i consumatori attraverso quelle che sono le esigenze, ma più che esigenze, quelle che possono essere nuovi trend attitudinali, per cui degli aceti di rosè, di vini rosè, degli aceti del benessere, dove siamo i primi per aver prodotto il mela madre, che è un aceto di mele non filtrato, non pastorizzato, biologico, che riesce dagli studi che noi abbiamo effettuati in collaborazione con l'Università di Agraria, riescono a mantenere l'insulina bassa, per cui hanno addirittura degli effetti sulla salute molto importanti.